E' un soldato nemico E' un soldato nemico Posso aiutarti? E' un soldato nemico Criat 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 E' un soldato nemico O No, no, no Posso aiutarti per quelle ferite. Se vuoi posso sistemarti quelle ferite. We have secured the sector. No! 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 Darò un'occhiata alle tue ferite. CASSETTA MEDICA PER TE! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. We have lost objective Charlie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. We have lost objective butter. We have taken objective butter. No, 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 no. Medico nemico! Medico nemico! Sì, c'è un ricognitore! 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 C'è un ricognitore! C'è un ricognitore! C'è un ricognitore! C'è uno dei loro! C'è un ricognitore! 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 Grazie a tutti! 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 20 of our soldiers remain... No! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Quello è un soldato nemico! No! Grazie a tutti! 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 Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!